In questi giorni c'è un'attività intensa da parte del Consiglio regionale della campagna per i progetti da mettere in campo per il prossimo futuro. Nella seduta di bilancio dello scorso 18 maggio 2021 si è discusso anche delle problematiche messe in evidenza dal primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, al presidente De Luca qualche settimana fa riguardo lo smaltimento della Posidonia spiaggiata. Da indiscrezioni trapelate da Palazzo Santa Lucia pare che alla città di Agropoli sarà destinata una cifra considerevole per smaltire tutta la Posidonia spiaggiata presente sugli arenili così da liberarli e creare la balneazione, una notizia importante che giunge con l'apertura della stagione turistica. Un altro finanziamento, sempre dalla regione Campania, sarà invece destinato per lo studio in collaborazione con l'Università di Salerno di questa pianta presente sull'intera fascia costiera sud di Salerno e sul suo spiaggiamento. Uno spiraio concreto per la città di Agropoli comincia a vedersi, parola mantenuta dunque da parte dell'onorevole Franco Piccarone che nelle scorse settimane aveva rassicurato l'assessore al bilancio Roberto Mutalipassi riguardo il finanziamento regionale per rimuovere la Posidonia spiaggiata dagli arenili del territorio. Con l'ottenimento dei fondi da parte dell'ente regionale si andrebbero a ripulire dalle alghe le due aree interessate Porto e Lidazzurro, mentre per il futuro con l'approvazione definitiva in Parlamento dell'emendamento al DL si potrà avere una classificazione della Posidonia spiaggiata da rifiuto speciale a rifiuto naturale. Con questo emendamento la Posidonia spiaggiata verrà inclusa tra il materiale naturale non più conferibile in discarica come rifiuto speciale. Ancora una volta i cittadini di Agropoli attendono fiduciosi ogni stagione estiva che la problematica sia risolta. L'annoso disagio persiste da più di un decennio. Con l'ottenimento del finanziamento regionale, nelle prossime settimane della Posidonia, sia sulla spiaggetta storica del porto, sia in località Lidoazzurro. Non dimentichiamo però che nell'ecosistema costiero la Posidonia riveste un ruolo fondamentale per diversi motivi. Grazie al suo sviluppo fogliare libera nell'ambiente fino a 20 litri di ossigeno al giorno per ogni metro quadro di prateria, produce ed esporta biomassa sia negli ecosistemi limitrofi sia in profondità, offre riparo ed è area di riproduzione per molti pesci. Consolida il fondale sotto costa, contribuendo a contrastare l'eccessivo trasporto di sedimenti sottili dalle correnti costiere, agisce da barriera soffolta che smorza la forza delle correnti e delle onde prevenendo l'erosione costiera. Lo smorzamento del moto ondoso operato dallo stato di foglie morte sulle spiagge le protegge dall'erosione, soprattutto nel periodo delle mareggiate invernali. In tutto il Mediterraneo le praterie di Posidonia sono in regressione, un fenomeno che è andato aumentando con gli anni con l'aumento della pressione antropica sulla fascia costiera. La scomparsa delle praterie di Posidonia ha degli effetti negativi non solo sul Posidonieto, ma anche su altri ecosistemi. Basti pensare che la perdita di un solo metro lineare di prateria può portare alla scomparsa di diversi metri della spiaggia antistante a causa dei fenomeni erosivi. Inoltre la regressione delle praterie comporta una perdita di biodiversità e un deterioramento della qualità delle acque.